bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi non sarà un video lungo sarà un video breve ragazzi perché c'ho da dirvi una roba c'ho da dirvi una cosa ragazzi è uscito oggi un nuovo codice promozionale per what the hen ringrazio i miei amici che mi seguono nelle live che me l'hanno subito prontamente dato ragazzi vi ricordo che oggi è sabato 7 ottobre o 6 per non mi ricordo che giorno è oggi aspetta è sì 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 confermo sabato 7 ottobre oggi ragazzi nuovo codice promozionale che ci darà a lo andremo a vedere assieme ragazzi vi ricordo dunque di spostarvi nel vostro profilo cliccando in alto a sinistra dove c'è il livello del nostro personaggio e dopo cliccando sul tasto verde inserisci codice promozionale prima di andarlo a mettere ragazzi voglio ricordarvi di lasciare un super pollicione in su se volete continuare a ricevere i codici promo di what the hen prima di tutti gli altri se vi piacciono le mie live e se volete continuare a supportare anche i video mi raccomando non dimenticarti di iscriverti al canale youtube beh ragazzi il tempo è giunto il dado è tratto il dado crispi è tratto andiamo a inserire il codice promozionale che è handle no sbagliato a scrivere è ha a handle with care handle with care ok e andiamo a inserire in via codice pom 5 malatorte per noi vi ricordo ragazzi che la malatorta per chi non lo sapesse attacca l'evocatore avversario avendo fatto l'aggiornamento quelli di charged monkey di what the hen e forse tutti voi forse alcuni di voi non sapranno che berta bavarese non va più a colpire l'evocatore quando la lanci quindi ragazzi ponderiamo su una possibile combo tornado più malatorta per andare a uccidere l'evocatore avversario beh ragazzi io spero che questo video breve ma intenso vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto ciao